Quindi per me gli immobili sono una security ma in effetti l'importante è che quell'immobile cresca un po' di valore nel tempo oltre all'affitto per avere un po' di rendimento decente. Nell'ultimo anno si sono alzati tantissimo i prezzi a Dubai, tu cosa dici? Direi che si sono alzati tantissimo proprio, non mi aspettavo una crescita così forte dovuta anche a una serie di motivi. Abbiamo parlato del post pandemia gestito bene, della qualità della vita ma possiamo dire che anche la guerra in Ucraina troppo disgrazia per entrambi i popoli, ucraino e russo, però molti hanno deciso. Hanno portato qui molto capitale. Io vivo sulla Palma, ormai sono 80% russi. Senti parlare in russi e questo fa capire che è una crescita vera, non è una hype di mercato, una pompa e basta. Ma c'è una domanda seria, vera, concreta. Poi è chiaro che continuerà a crescere a mio avviso per un anno o due e ci potrà essere una correzione normale. In tutti i mercati quello che cresce poi corregge un po' più, un po' meno.